primo novembre oggi è la festività cristiana di tutti i santi popolarmente detta giorno di ogni santi si celebra la gloria e l'onore di tutti i santi anche quelli non canonizzati la solennità nel calendario liturgico cade il primo novembre ed è seguita dalla commemorazione dei defunti il 2 novembre